Questa mattina a lungo il grande raccordo anulare di Roma un pullman turistico è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio è scoppiato sulla corsia esterna dell'A90, tra Casilina e Prenessina intorno alle 8.30, per cause ancora da accertare. Il conducente ha notato un odore acre e del fumo fuoriuscire dal veicolo, costringendola ad accostare immediatamente a chiedere soccorso. Fortunatamente non c'erano passeggeri a bordo. Al momento dell'incidente il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. Ha chiamato il numero unico delle emergenze, 112, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Roma sono intervenuti prontamente con tre mezzi, ma non ci sono stati feriti né intossicati. L'incendio ha causato disagio al traffico e ha richiesto l'intervento tempestivo delle autorità per evitare ulteriori complicazioni.